Il tema di oggi l'avete visto, si parla di artefici magici, di automi, di statue animate e in particolare di due figure, una divina Efesto e l'altra eroica Dedalo, che presiedono a questo mondo di invenzioni tecnologiche. Per entrare in questo mondo io partirei dall'Iliade, che è sempre un buon modo per iniziare. Allora noi siamo abituati, e non a torto, a leggere l'Iliade come un poema di guerra, tutto incentrato sul coraggio, sulla gloria del combattente, con gli splendori, con la tragedia della battaglia, con il valore e la forza dei guerrieri e la polvere, il sangue, la morte. L'Iliade però contiene anche inserti di diverso genere, che a volte si proiettano anche in una dimensione che potremmo definire fantastica. C'è il mondo degli dèi, che è fondamentale nell'Iliade, che spesso è pericolosamente simile a quello umano, è diviso da invidie, passioni, da rabbie e ripicche, ma a volte esibisce anche tutto il suo carattere prodigioso e sovrannaturale. Nel contesto del mondo divino, un signore dei prodigi, un grande artefice magico, è soprattutto Efesto, il dio Fabbro. Nell'Iliade a Efesto vengono attribuite numerose creazioni. L'intero Olimpo, la sede degli dèi, sembra quasi essere opera sua. Efesto, ci dice Omero, ha costruito i portici della dimora degli dèi. E il poeta racconta che gli Olimpi, riuniti a concilio, presero posto sotto i porticati perfetti che Efesto costruì per il padre, Zeus, con l'arte e l'ingegno. L'arte e l'ingegno, dice la traduzione di Maria Grazia Ciani, il greco dice esattamente iduiesi prapidesin, cioè con una mente che sa, con una mente sapiente. Efesto ha costruito anche il letto dove dormono Zeus e sua mogliera. Anche lo scettro di Agamennone è stato forgiato da Efesto per Zeus e poi trasmesso al comandante degli Argivi, Agamennone appunto, come simbolo del potere regale. L'Iliade poi non ne parla, ma tra le creazioni di Efesto era famoso anche Talos, un personaggio che compare nella saga degli Argonauti, che è una saga molto antica, visto che Giaomero la cita come una storia nota a tutti. Talos era un uomo di bronzo che sorvegliava l'isola di Creta. La tradizione che ci dice che questo Talos era un automa creato da Efesto, convive con altre tradizioni che lo considerano un antichissimo eroe cretese oppure un superstite degli uomini dell'antica età del bronzo. Comunque sia, la prima testimonianza su Talos come automa forgiato da Efesto è abbastanza antica. La troviamo in uno scolio, cioè in una nota di commento alla Repubblica di Platone, dove è attribuita al poeta Simonide che è vissuto tra VI e V secolo a.C. In questa versione, appunto, Talos è una creatura di bronzo costruita da Efesto per il re di Creta Minosse, è una macchina dotata di vita che uccide chi si avvicina bruciandolo vivo con il calore del suo metallo. Efesto domina infatti anche il potere del fuoco. È un Dio potentissimo dunque, eppure è anche una divinità che per molti versi sta ai margini della società olimpica. La matrice della sua diversità ci viene spiegata dal Dio stesso in due diversi passi dell'Iliade. Nel primo libro Efesto racconta che Zeus lo scagliò giù dall'Olimpo perché aveva osato difendere sua madre, la dea Hera, dalla rabbia del padre durante uno dei litigi ricorrenti della coppia divina. E dice Efesto a sua mamma Hera. Già un'altra volta volevo difenderti e lui Zeus mi afferrò per un piede e mi scagliò fuori dalla dimora divina. Per un giorno intero precipitai e al tramonto caddi a Lemno, isola dell'Egeo nord orientale dove ogni tanto si diceva che appunto Efesto aveva la sua officina. Caddi a Lemno quasi senza respiro. Questa storia è raccontata però in modo diverso nel diciottesimo libro dell'Iliade. Qui sarebbe stata la madre stessa era a scagliare Efesto giù dall'Olimpo e il Dio Fabro sarebbe stato poi salvato dalla divinità marina Teti, la madre di Achille. Dice Efesto nel diciottesimo dell'Iliade. Teti mi salvò dolorante quando caddi scagliato lontano dalla mia abominevole madre che voleva nascondermi perché ero zoppo. Avrei sofferto dolori tremendi se non mi avessero accolto nel mare profondo Teti ed Eurinome, la figlia di oceano che scorre in cerchio. Quindi viene accolto diciamo nel grembo delle divinità marine. Accanto a loro per nove anni forgiai molte opere belle, spille, bracciali ricurvi, orecchini e collane nella grotta profonda. Intorno scorreva l'onda infinita di oceano ribollendo di schiuma. Non lo sapeva nessuno degli dèi e degli uomini, solo Teti ed Eurinome che mi salvarono. Efesto dunque è all'inizio un dio in esilio, in questa grotta marina protetto dalle divinità del mare, un dio che viene ripudiato, letteralmente scagliato fuori dall'Olimpo. Ma nel suo esilio, ci dice Omero, egli contrae un debito di gratitudine appunto con Teti, che diventa quasi una sua seconda madre. È per questo che quando Teti viene a chiedergli una nuova armatura per il figlio Achille, Efesto si sente in dovere di ubbidire. E mio dovere, dice, pagare alla dea dai bei capelli, Teti, il prezzo della mia vita. L'episodio è narrato appunto nel diciottesimo canto dell'Iliade e come sapete le armi di Achille erano state vestite da patroclo e poi strappate al suo corpo da Ettore. Per questo Teti viene a chiedere Efesto una nuova armatura che comprende anche il famoso scudo istoriato descritto minutamente da Omero e di cui credo vi parlerà nei prossimi giorni Eva Cantarella. Ma intanto entriamo anche noi con Teti nell'officina di Efesto e vediamo come viene presentata da Omero. Teti viene accolta dapprima dalla moglie di Efesto che qui nell'Iliade è Haris, cioè la grazia, la bellezza in persona. Nell'Odissea invece si dirà che la moglie di Efesto è Afrodite, la quale peraltro tradisce il marito con Ares. Possiamo considerarle varianti di uno stesso motivo mitologico. L'elemento chiave è che la divinità lavoratrice, il fabbro deforme, l'emarginato caggiato giù dall'Olimpo, ha comunque come sua sposa una creatura che incarna viceversa la perfezione e la bellezza assoluta. Caris fa sedere Teti su un trono d'argento che è definito De Daleo, De Daleu, cioè costruito con arte. Efesto che stava lavorando in quel momento, ci dice Omero, si levò dall'incudine, mostruoso essere ansante e zoppicante, che muoveva fatica le gambe sottili. Scostò i mantici lontano dal fuoco e in uno scrigno d'argento raccolse tutti gli arnesi con cui lavorava. Con una spugna si deterse il volto ed entrambe le mani e il collo robusto e il petto coperto di peli. Poi indossò una tunica, prese un grosso bastone ed uscì zoppicando. Sorreggevano il loro Signore due ancelle d'oro, due schiave d'oro, che sembravano vive, avevano intelletto e ragione e voce e forza e abilità nel lavoro, perdono degli dei mortali. Si affannavano ora a sorreggere il loro Signore. Dunque queste ancelle, queste schiave fatte d'oro, dice Omero, avevano intelletto e ragione, nos e frenes, cioè tutte le facoltà intellettuali, e avevano anche voce, audè e forza, vigore, senos. Sono dunque due, queste ragazze d'oro, due automi pensanti, dei veri e propri robot intelligenti costruiti per assistere il Dio nel lavoro con la forza delle mani ma anche con l'acutezza, l'intelligenza della mente. Efesto comunque ci viene presentato nel momento del lavoro e della fatica fisica. Teti, dice sempre Omero, lo trovò in affanno, in sudore, idroonta, che si aggirava intorno ai suoi mantici, venti tripodi stava forgiando per metterli alle pareti della sala bellissima e ruote d'oro aveva applicato a ciascuno perché da soli, in greco automatoi, potessero andare all'assemblea degli dei e da soli poi ritornassero alla dimora. Una meraviglia a vederli, sauma idestai, in greco, ed erano quasi finiti questi tripodi, sorta di tavolini semoventi che andavano avanti e indietro. Solo le anse cesellate, e qui ancora una volta l'aggettivo daidalea, lavorate con arte, mancavano. Stava lavorando a quelle e ne forgiava gli attacchi. Ora, segnalo alcune di queste parole chiave della descrizione che Omero fa dell'officina di Efesto. Il sudore, idroonta, dice, gli oggetti, gli strumenti che si muovono da soli, automatoi, sono creazioni che destano meraviglia, sauma, e sono lavorate con arte ingegnosa, daidalea. Primo punto, il sudore. nessun dio suda nell'Iliade. Solo Efesto è un dio che suda lavorando. È l'unica divinità dell'Olimpo che ci viene mostrata mentre svolge un lavoro manuale. Gli dei suonano strumenti musicali, come Ermes, come Apollo, fanno la guerra, come Ares, vanno a caccia, come Artemide, ma non lavorano. Demetra è signora dell'agricoltura e delle terre coltivate, ma non va a zappare. Efesto, invece, conosce la fatica, il ponos, come si dice in greco, del lavoro, ma il suo ponos è un ponos accompagnato appunto dall'ingegno. Egli faticava, eponeito, il verbo del ponos, poneo, dice Omero, ma appunto con una mente che sa, iduiesi, prapinesi. Alcuni frammenti di poesia orfica citati dal filosofo tardo neoplatonico Proclo ci dicono che Efesto aveva imparato a fare l'artigiano dai ciclopi. Però in genere Efesto ci appare autodidatta, non ha imparato da nessuno a lavorare il metallo. Egli è l'incarnazione stessa della tecne dell'arte dell'artigiano. Lui insegna le arti artigiane agli uomini senza averle apprese da nessuno. Nel sesto canto, anzi più avanti, nell'Odissea, quando Odisseo viene trasfigurato dalla dea Atena e trasformato in un vecchio mendicante, Omero fa un paragone tra questa trasformazione di Ulisse e le opere degli artigiani, con una similitudine tra le tante che si trovano, come sapete, nei poemi omerici. E dice come quando, cioè Atena trasformò Odisseo, come quando un esperto artigiano ricopre con l'oro l'argento. A lui insegnarono l'arte. Efesto è palla di Atena, egli compie lavori stupendi. E' interessante tra l'altro che Efesto sia qui accostato ad Atena. Atena ci appare a volte come una dea compagna di Efesto, il quale tra l'altro, secondo il mito, tenta con lei anche un maldestro rapporto sessuale al quale la dea sfugge. E' una storia narrata da vari autori, tra i quali il mitografo Apollo d'oro. La storia dice che Efesto era stato preso dal desiderio irresistibile di possedere Atena, ma la dea, votata alla virginità, la dea Parzenos, lo respinse con fermezza. Efesto iniziò a inseguirla, seppure con molta fatica, perché appunto era zoppo da quando era stato buttato giù dall'Olimpo. Infine la raggiunse, ma non riuscì a completare il rapporto sessuale e il suo seme si sparse sulla gamba della dea. Atena, disgustata, raccolse lo sperma con un batuffolo di lana che poi gettò a terra e da quel seme nacque uno dei mitici re ateniesi, Erittonio. C'è insomma un rapporto tra Atena ed Efesto, sebbene un rapporto bizzarro, conflittuale e complesso. Atena, al contrario di Efesto, non si sporcava le mani lavorando, non forgiava metalli, non batteva il ferro, non sudava. Era però forse l'unica altra divinità, oltre ad Efesto, ad avere un rapporto diretto col mondo del lavoro manuale. Con il soprannome di Ergane, lavoratrice, era considerata la patrona dei vasai nonché la maestra dell'arte della tessitura. Arte in cui a volte si impegnava in prima persona. Per esempio Omero, nel quinto libro dell'Iliade, ci dice che Atena si cuciva da sola i propri vestiti. Ad Atene, su una collinetta che domina la Gorà, viene costruito verso la fine del quinto secolo a.C. un tempio di Efesto, di cui restano ancora le rovine che sono tra le meglio conservate del mondo greco. E noi sappiamo che qui, nella cella del tempio, Efesto era raffigurato appunto accanto ad Atena. Le due statue, che oggi sono perdute, erano state scolpite da un grande scultore, Alcamene, allievo di Fidia, e stavano una accanto all'altra, poggiate su una base dove era raffigurata la nascita di Erittonio, quindi il figlio strano di Efesto e di Atena. Efesto probabilmente teneva in mano il martello, la sua statua, mentre ai suoi piedi c'era un incudine. E non era un caso che il tempio sorgesse proprio in quel luogo del Lago Rà. Nel quartiere intorno al tempio si trovavano molti laboratori artigiani. Gli archeologi hanno scoperto nella zona molti resti di lavori in corso, depositi di ceramica cotta male, scarti di ceramica, fosse, diffusione dei metalli. Le testimonianze letterarie a loro volta attestano che nei dintorni c'erano per esempio officine di bronzisti. E poco più là, ma ben visibile dalla collinetta del tempio, sorgeva peraltro il quartiere del ceramico, cioè il quartiere dei vasai, che era Meis, e Atene era appunto la patrona dei ceramisti. Efesto e Atena dunque stavano lì, su quella collinetta del Lago Rà, per presiedere al lavoro degli artigiani ateniesi. Efesto li osservava dall'alto della collina, mentre essi guardavano al Dio e al suo tempio come un simbolo della loro identità e anche, probabilmente, della loro dignità di lavoratori. L'Atene degli artefici aveva in quel luogo, in quel tempio, in quella cella con la statua di Efesto, la sua glorificazione. In una società come quella greca, dove spesso prosperava il disprezzo aristocratico per il lavoro manuale, Efesto si configurava ulteriormente come un Dio anomalo, che di quel lavoro pareva invece essere l'incarnazione e la glorificazione. Però Efesto, l'artefice divino, non può essere ridotto solo a un simbolo dei ceti artigiani, perché la sua figura non celebra solo la realtà del lavoro, quanto piuttosto anche l'utopia di liberarsi dal lavoro. E qui veniamo alla seconda nozione al secondo termine chiave che abbiamo trovato nel racconto dell'Iliade, l'automaton, cioè gli strumenti artificiali che sono capaci di muoversi e di operare da soli e quindi di sostituire e alleviare la fatica degli esseri viventi. Efesto è un grande creatore di automata. Sul concetto di automata, tra l'altro nel mondo greco c'è anche un interessante saggio di un notevole studioso Giuseppe Cambiano, che credo avrete occasione di ascoltare questo pomeriggio. Automatos in greco è tutto ciò che si muove spontaneamente, senza un impulso esterno, ma comunque secondo un disegno preordinato è per svolgere una funzione specifica. Sono automato i tripodi che Efesto costruisce per le altre divinità, lo sono le ancelle d'oro che assistono il Dio nell'officina, ma lo sono anche le porte dell'Olimpo che si aprono da sole. La possibilità che gli oggetti si muovono in modo automatico appartiene a un mondo ideale che spesso viene configurato come utopico. Nelle fantasie dei poeti comici sull'età dell'oro o su altri mondi felici che noi definiremmo paesi di cuccagna, il motivo dell'automatos bios, della vita in cui tutto si offre in modo automatico e spontaneo ricorre spesso. Per esempio un poeta comico che si chiamava Cratete, contemporaneo di Aristofane, in una commedia intitolata Le Bestie, di cui ci sono rimasti solo alcuni versi, immagina un mondo in cui tutto è automatos e non c'è bisogno di faticare e neppure di avere schiavi e schiave. Io, proclama un personaggio della commedia, renderò semoventi, automatoi, tutti gli oggetti. Ogni utensile verrà da solo quando qualcuno lo chiamerà. Preparati tavola e apparecchiati da solo. Panierino avanti impasta al pane. Coppa, versami da bere. Tazza, vai a lavarti da sola. Focaccia, lievita. Pentola, vai a scolare le bietole. Pesce viene nel piatto. Ma non sono ancora cotto dall'altra parte, dice il pesce. E allora che aspetti? Rigirati, spargiti di sale e unciti di olio. È un tema che troviamo anche in altre commedie e che ci permette di porre in una prospettiva corretta anche gli automi inventati da Efesto. Il Dio dà vita a ciò che è inanimato. Crea oggetti magici che alleviano la fatica. L'attenzione si sposta qui dalla pratica del lavoro all'oggetto della creazione. E qui andiamo all'altro termine chiave usato da Omero. Gli strumenti prodotti da Efesto sono zaumata, cioè oggetti miracolosi, prodigi che suscitano innanzitutto la meraviglia. Del resto Platone nelle leggi, con la sua consueta diciamo genialità, rovescia la prospettiva e parla proprio dell'uomo come zauma. La vecchia traduzione di Cesare Giarratano traduce questo zauma con macchina meravigliosa. Altre versioni lo traducono direttamente con marionetta. Perché? Perché Platone dice l'uomo è un zauma, plasmato dalle mani di un dio non si sa se per suo divertimento o per un suo scopo preciso. E la macchina umana, lo zauma umano, dice Platone, è governato dalle passioni, pafe, così come le marionette sono mosse dai loro figli. Peraltro gli automi, è bene ricordarlo, nel mondo greco non appartengono solo alla fantasia mitologica. Sappiamo che nell'età ellenistica l'arte di produrre meccanismi automatici raggiunse un certo livello di raffinatezza. Al tempo di Nerone poi, nel primo secolo dopo Cristo, erano celebrate le creazioni di Erone di Alessandria, al quale si attribuiva la costruzione di porte semoventi per un tempio sul modello di quelle dell'Olimpo e anche di marchi ingegni mossi da un meccanismo a vapore. Ma il punto è che quelle macchine a vapore che secoli dopo avrebbero dato impulso alla rivoluzione industriale, qui erano ancora iscritte nella logica del sauma, della meraviglia. Per il lavoro, per gli scopi pratici, gli schiavi bastavano e avanzavano, non c'era bisogno di meccanizzazione. Gli automi venivano usati come attrazione nelle feste, servivano a stupire e a far sognare, non a riprodurre o a manipolare la realtà, ma andare oltre la realtà, infondendo la vita in ciò che è inanimato. E a questo punto arriviamo al quarto e ultimo termine chiave che abbiamo identificato nel testo di Omero, Deidaleon, Deidaleo. Nei poemi omerici l'aggettivo Deidaleo indica tutti gli oggetti di metallo o di legno che sono lavorati, cesellati, con arte raffinata. Ma noi sappiamo anche che a questo aggettivo corrisponde un eroe, già noto allo stesso Omero, che porta appunto il nome di Deidaleo. Deidaleo che i greci consideravano l'inventore della scultura e che fu tra l'altro il costruttore del labirinto cretese. Difficile dire se sia l'aggettivo che deriva dal nome proprio o forse viceversa, Deidaleo è comunque l'incarnazione del Deidaleon, del lavoro fatto con arte raffinata. Anche lui, artefice supremo, come Festo è una figura eccentrica e particolare. Deidaleo era nato ad Atene ma era scappato dalla città per non scontare la pena di un omicidio di cui si era reso colpevole. La singolare storia di questo crimine è narrata fra gli altri ancora una volta dal mitografo Pollo d'Oro, il quale ci dice che Deidaleo aveva un allievo, Talo, figlio di sua sorella. A un certo punto si era reso conto che l'allievo aveva qualità tali da poter superare il maestro e il ragazzo infatti aveva trasformato la mascella di un serpente per esempio in una sega con cui si tagliava il legno e si diceva che avesse anche creato altre invenzioni ingegnose come il compasso e allora Deidaleo preso da una gelosia irrazionale spinse Talo giù dall'acropoli e quello morì sfracellandosi e per questo lui dovette fuggire da Atene e trova ospitalità da Minosse re di Creta. Ora questa storia strana, questo delitto un po' folle in qualche modo contribuisce ad ammantare di un'aura straordinaria la figura dell'artefice. Un creatore come Deidaleo non poteva essere un uomo come tutti gli altri, ci voleva un segno che lo distinguesse, fosse anche lo stigma del criminale così come la zoppia caratterizzava il fabbro divino Efesto. Tra l'altro il luogo in cui lo sventurato discepolo Talo si era sfracellato vicino al teatro di Dioniso ad Atene, veniva mostrato ai viaggiatori ancora in età romana al tempio di Pausania, mentre in un tempio dell'acropoli l'Eretteo era custodita una sedia pieghevoli che si diceva fosse opera di Dedalo. Ma la caratteristica principale che gli antichi attribuivano alle creazioni artistiche di Dedalo e che esse sembravano vive o addirittura erano vive. Le statue plasmate da Dedalo potevano muoversi, guardare e anche parlare. Un commento antico, anche qui uno scoglio a una tragedia di Euripi dell'Ecuba, ci informa su questa caratteristica delle opere di Dedalo citando autori dell'età classica. E questo commentatore scrive per quanto riguarda le opere di Dedalo, cioè che esse si potevano muovere ed emettere una voce, lo stesso Euripide dice nell'Euristeo, cita qui una tragedia perduta di Euripide, vecchio, non avere paura, tutte le statue di Dedalo possono muoversi e guardare, così abile è quell'artista. Mentre, continua il nostro commentatore, Platone, che è un omonimo del filosofo che faceva al poeta comico, scrive in una sua commedia, chi sei? Sono due personaggi che parlano, dimmi, perché taci? E la risposta viene appunto in realtà da una statua che dice, io sono Ermes, opera di Dedalo, io posso parlare, ho una voce e sono venuto qui camminando da solo sui miei piedi di legno. Da solo ovviamente traduce ancora una volta al termine chiave automatos. Questa fantasia delle statue semoventi e parlanti ha prodotto poi nell'antichità una serie di variazioni letterarie. Per esempio Luciano, in una sua opera, Gli amanti della menzogna, racconta di statue che prendono vita e che scombinano l'esistenza del prossimo e porta al paradosso questa antica idea mitologica delle statue semoventi. Per cui lui racconta della statua di un tale, Pellico di Corinto, che ogni notte scendeva dal suo piedistallo ed entrava nelle case degli altri. Non appena cala al buio, dice, scrive Luciano, Pellico scende dal piedistallo sul quale si trova e si mette a girare per la casa. A ognuno di noi è capitato qualche volta di incontrarlo mentre stava canticchiando e non ha mai fatto del male a nessuno. Bisogna solo scostarsi e lui passa oltre senza dare fastidio a quelli che lo vedono. Per la verità, il più delle volte fa il bagno e gioca tutta la notte, tanto è vero che si sente il rumore dell'acqua. Quindi è una statua giocosa, a differenza per esempio di quella del commendatore che scende dal suo piedistallo per trascinare Don Giovanni all'inferno. Sempre meno terribile del commendatore, ma più dispettosa di questo Pellico. E un'altra statua di cui ci racconta sempre Luciano, che ovviamente si fa gioco anche, l'autore molto ironico, molto scansonato di queste credenze. Una statua questa volta di Ippocrate, il padre della medicina. Lui racconta che c'era un medico antigono che teneva in casa sua un bronzetto alto più o meno mezzo metro. Ebbene, ogni notte anche questa statua si animava e andava in giro per tutta la casa del medico antigono. E scrive Luciano, fa un baccano tremendo, butta all'aria i miei vasi, pasticcia con le medicine e rovescia il mortario, particolarmente se ci dimentichiamo del sacrificio che gli consacriamo una volta all'anno. Ora la misteriosa vita delle statue affascina da sempre i greci. I racconti relativi alle sculture del mitico artefice Dedalo sono una maniera di fantasticare intorno al prodigioso potere delle immagini artistiche, intorno alla loro enigmatica capacità di evocare la vita pur essendo prive di vita. Sempre il mitografo Apollo d'Oro, che per noi è una grande miniera di storie e di notizie, riferisce in proposito un aneddoto bizzarro e racconta Dedalo fabbricò una statua molto somigliante a Eracle, Ercole, tanto che di notte Eracle non capì che era una statua e la colpì con una pietra credendola un essere vivente. Quindi anche Eracle viene ingannato da questa statua, ma la cosa più bizzarra è la notizia, la chiosa che a questo racconto aggiunge il vescovo Eustazio in età bizantina, commentatore di Omero, secondo il quale la statua avrebbe restituito il colpo di pietra a Eracle. E forse possiamo trovare in queste storie una remota origine dell'aneddoto relativo a Michelangelo che tira lo scalpello sul ginocchio del suo Mosè dicendogli perché non parli come le statue di Dedalo. Ma il prodigio artistico delle statue di Dedalo, semoventi e parlanti, ci riporta anche agli automata dell'officina di Efesto e al sogno di creature inanimate che possano imitare e sostituire le azioni, l'opera e la fatica dell'uomo. Ed è a questo che pensava Aristotele quando nel suo trattato sulla politica fa una singolare considerazione che vi cito ora avviandomi a concludere questo intervento. Allora Aristotele ha appena elaborato la sua celebre e famigerata idea dello schiavo come strumento, come organon, al servizio di altri, e come oggetto animato, c'tema empsuchon, con una psuche, con un'anima, però oggetto. E a questo punto si lancia in un'ipotesi che sembrerebbe quasi anticipare l'epoca attuale dell'automazione e dell'informatica. Perché scrive Aristotele In verità, se ciascuno strumento sapesse in risposta a un ordine o per una sorta di presentimento pro-aestesis, che venisse in qualche modo programmato a fare una cosa. Quindi se ciascuno strumento sapesse portare a termine l'opera che gli tocca, inciso, come a quanto si dice facevano le statue di Dedalo e i tripodi di Efesto, che come dice il poeta Omero, da soli, automatoi, entravano nell'assemblea divina. Quindi anche per lui, diciamo, il riferimento congiunto sono le opere di Efesto e di Dedalo. Quindi dice, se ciascuno strumento sapesse fare da solo l'opera che gli tocca, e se allo stesso modo le spole dei telai tessessero e i plettri degli strumenti musicali suonassero da sé, né gli architetti dovrebbero far ricorso ai muratori, né i padroni agli schiavi, duloi. Quindi se avessimo macchine simili a quelle di Efeste e di Dedalo, non ci sarebbe bisogno di schiavi. Ma si tratta appunto di un'ipotesi che ci rimanda un po' al mondo di utopia sognato dai poeti comici. Perché solo nell'officina di Efesto, nell'universo mitologico di Dedalo, gli esseri umani possono pensare che il loro lavoro sia sostituito da strumenti animati. E l'unico strumento animato, in realtà, di cui gli uomini possono disporre al tempo di Aristotele e di cui disporranno ancora per secoli, è appunto quello Ktema Emsukon, quell'oggetto animato che è lo schiavo. Grazie. 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 Grazie.